Forse mai, come nell'ultima guerra mondiale, molti uomini hanno sentito che la loro morale si confondeva con la divisa indossata e che ciascuno doveva cercare la verità nel fondo della propria coscienza, mettendola a confronto con i giuramenti resi al potere. Da questi drammatici colloqui sono nate crisi profonde che tornano alla luce del nostro tempo attraverso il giudizio dell'unico tribunale possibile, quello della morale comune. Il caso Rommel è forse l'esempio più tipico dei silenziosi conflitti combattuti e risolti nei meandri della coscienza. In fondo a questo bunker, costruito in Baviera da 10.000 operai perché Hitler, Eva Braun, Bormann, Goering, Himmler, Goebbels avessero garantita una folle sopravvivenza ad una possibile catastrofe, fu deciso anche il destino umano del protagonista di questa moderna tragedia. Erwin Johannes Eugen Rommel torna a casa in un piccolo paese del Baden-Württemberg subito dopo la conclusione della campagna polacca. L'incarico tra il militare e il poliziesco di assicurare l'incolumità del Führer è concluso. Adesso vuole il comando di una Panzerdivisione. Il 15 febbraio del 41 riceverà qui la notizia che il Führer l'ha destinato al comando dell'Africa Corps. È l'opposto dei militari Juncker, dei generali aristocratici e colti che fanno carriera all'ombra della cancelleria, critici e tuttavia ligi al potere di Hitler. La fama di un Rommel onnipresente sulla linea del fuoco penetra nel fronte degli avversari. Il giorno in cui esce indenne da un mitragliamento aereo si sparge la voce dalla sua invulnerabilità. Un mito remoto familiare agli eroi delle guerre protette dagli dèi. Hitler è soddisfatto. Con la fronda di quercia prima e il bastone di Fesmaresciallo poi esprime a Rommel la sua gratitudine. È un incontro non ambiguo anche se le cerimonie sono vagamente presiedute dall'ombra di Goebbels che specula sulla leggendaria fama del generale, il quale per la verità non si sottrae alle buone ragioni della propaganda di cui diventa un fatale e talvolta passivo strumento. A cosa va incontro Rommel? A questi soldati che ora Hitler gli affida per difendere sulla linea del cosiddetto vallo atlantico l'Europa minacciata dall'invasione. L'Africa è stato l'antefatto di un dramma che qui in Francia comincia lentamente a svolgersi. Rommel ha visto cadere Mussolini, ha meditato sull'offensiva dei russi ad oriente, ha protestato per gli eccidi delle SS e ha avuto qualche prova dalla campagna razziale. Matura lentamente alla sua rivolta. Credete veramente che potremo ottenere quella vittoria totale cui miriamo? Aveva chiesto a Hitler dopo la caduta di Tunisi. No, era stata la risposta del Führer. Vi rendete conto delle conseguenze di una sconfitta? aveva replicato. E Hitler? Sì, ma nessuno farà la pace con me. E poi la pace ha un senso solo per chi vince. Frattanto è nata la cospirazione contro Hitler. Uno dei movimenti fa capo al dottor Gerdeler, sindaco di Lipsia, al colonnello generale Becker, al generale von Stülpnagel e Karl Strelin, borgomastro di Stoccarda, ad avvicinare Rommel per incarico dei congiurati. A un certo momento ho preso il coraggio a quattro mani e gli dissi Rommel, lei è il solo che in questo momento può assumersi il compito di salvare la nazione tedesca dalla inevitabile catastrofe. E lui rispose, desidero pensarci sopra. Voglio prima fare il tentativo di parlare con Hitler per persuaderlo a cambiare rotta, per dirgli nel modo più chiaro che la guerra è ormai perduta ed è necessario porvi termine. Lasciatemi fare questo tentativo. Nel bunker di Obersalzberg Hitler prende ormai soltanto decisioni irose e cruente. L'uomo cui Hitler ha affidato l'estrema difesa armata dalla patria congiura per salvare il paese facendogli onorevolmente deporre le armi. O chiediamo la pace o assumiamo uno schieramento difensivo dietro la linea dell'Orn, dice a Hitler. Non accetto l'idea del ripiegamento, è la risposta. Rommel allora parla con estremo abbandono, stringendo Hitler al muro, obbligandolo ad ascoltare progetti di armistizio, di pace. Hitler si comportava, dirà Rommel, come se fosse alle prese con un inguaribile pessimista. La congiura prevedeva l'uccisione di Hitler? Si, prevedeva questa necessità poiché altrimenti non sarebbe stato possibile ottenere un mutamento radicale della situazione interna e di conseguenza anche del corso della guerra. E Rommel approvò il progetto di uccidere Hitler? Era nettamente contrario all'uccisione di Hitler. A me personalmente dichiarò che non voleva arrivare a questo estremo provvedimento. Ricordo che mi disse, sono un soldato e come soldato capirete che non posso decidermi ad assassinare il capo, il capo del nostro paese. Disse esattamente così. Signor sindaco, eravate in contatto col movimento di Stauffenberg? Il nostro movimento procedeva parallelamente con quello di Stauffenberg. Noi vi partecipiamo solo indirettamente. Il fallimento dell'impresa di Stauffenberg mette in crisi tutto l'apparato cospirativo. Frau Rommel è circondata dall'allarme degli amici. L'ammiraglio Ruge e il colonnello Oscar Farni la scongiurano di indurre il marito alla prudenza. Il giorno prima che Mussolini e Graziani venissero a compiacersi con Hitler, Stülpnagel in Francia ha ingenuamente preteso dai congiurati l'esecuzione di un piano che prevedeva l'arresto della Gestapo. Mentre Hitler scherza col duce sullo scampato pericolo, impressionando fortemente il collega, Stülpnagel viaggia sotto scorta verso Berlino. Durante il percorso si spara alla testa, ma riesce solo ad accecarsi. Lo operano, gli asportano un occhio, lo guariscono, lo torturano e poi li impiccano. Ma nel delirio ha gridato tre volte il nome di Erwin Rommel. Il colonnello Fonofacker, a sua volta, rivela sotto le torture della Gestapo una frase di Rommel. Dica a quei berlinesi che possono contare su di me. Hitler follemente crede di essere stato risparmiato dalla provvidenza. Moriranno anche i cugini dei congiurati del 20 luglio. Il 12 ottobre decide l'eliminazione di Rommel. Keitel, con la complicità di Jodl, si incarica di provvedere al felmaresciallo. Occorre un esecutore che non desti sospetti. Sotto le lenti si fa luce il viso di uno scuro generale. Burdorf. Questi troverà poi un accompagnatore nel generale Meisel. Il 14 ottobre Manfred arriva in permesso col treno delle sei. La casa di Erlingen, che oggi ha una scuola, è già sveglia. Dentro e fuori. Fu io che andai incontro Meisel e Burdorf. Mi chiesero se mio padre era in casa. Domandai scioccamente se dovevano parlargli. Risposero che avevano un appuntamento con lui. Il loro colloquio durò circa 30 minuti. E poi cosa successe? Prima Meisel e poi Burdorf lasciarono lo studio. Si diressero subito verso l'uscita. Ricordo che non mi guardarono neppure. La cosa mi stupì moltissimo. Dopo pochi minuti uscì mio padre che, senza dire una parola, salì le scale verso la stanza di mia madre. Lucia Rommel, che oggi vive a Stoccarda, dove Manfred è segretario particolare del ministro degli interni, aveva compiuto da poco più di 4 mesi 50 anni. Suo marito ne aveva 52, suo figlio 15. Signora Rommel, io la prego di ricordare, per quanto possa essere doloroso, ciò che suo marito le disse nel congedarsi, nel dirle addio. Mi salutò semplicemente. Tutto quanto accadeva mi sembrava impossibile. Quando capì che se n'andava, non c'era già più. E come reagì? Lui non c'era già più. Non sentì di dovergli parlare ancora, non fu tentata di trattenerlo. No, era tutto finito. Non ebbe un moto di ribellione, non pensò di proporgli qualcosa, di resistere con lui a quanto stava succedendo. Non c'era altra scelta, l'avrebbero ucciso prima del processo. Sicuramente non gli avrebbero consentito di parlare. Vi abbracciaste? Sì. Signora, si sieda, la prego. Sì, grazie, la ringrazio. Dopo Manfred, signora, che cosa le ricorda di più il felmarisciallo in questa casa? Conserviamo qui molte cose che ci parlano di lui. Se lei vuole, posso mostrarle il calco del suo volto dopo la morte. Noi lo teniamo sempre qui, vicino a noi. Dopo quanto tempo ha preso la notizia della morte di suo marito? Chiamarono circa mezz'ora dopo. Furono di parola. Ricevete lei la notizia? No, la ricevete il capitano Aldinger, l'ultimo col quale si era intrattenuto. Era l'ufficiale d'ordinanza di mio marito. Il felmarisciallo Rommel mi disse, Mio caro Aldinger, tutto è ormai finito. I due generali sono venuti per contestarmi la partecipazione alla congiura contro Hitler del 20 luglio. Uno dei generali ha portato una fiala di cianuro. Me la consegnerà durante il viaggio che faremo verso Ulm. Il mio cadavere verrà portato a Ulm ed esattamente tra 20 minuti sarò morto. Prima di uscire lei ebbe un breve colloquio con suo padre. Cosa le disse? Mi disse, Manfred, ho avvertito tua madre che fra un quarto d'ora sarò morto. Hitler mi accusa di alto tradimento. Ma per i miei meriti in Africa mi viene offerta la possibilità di uccidermi anziché affrontare un processo pubblico. Non verrà preso alcun provvedimento contro di voi. Riceverete una telefonata fra 20 minuti. Vi comunicheranno che io sono morto per un improvviso colpo al cuore. Poi aggiunse, Ti raccomando tua madre e il tuo onore, figliolo. Lungo questo viale io e mio padre non parlammo mai. Fu Maisel ad un certo punto a chiedermi come vi trovate nell'esercito? E io rispose semplicemente, compio il mio dovere. Mio padre era sempre davanti a noi alla destra del generale Burgdorf. Non si dicevano nulla. Io lo guardavo e mi dicevo perché non parliamo noi due? Perché sto parlando col generale Maisel? Erano gli ultimi passi che facevo con mio padre. Ci fermammo qui. Proprio qui. E vi abbracciaste? Da noi non usa. Su questa stessa macchina, un Orch del 1938 rintracciata a Eslingen, dove adibita da autoambulanza in una scuola per infermieri, Maisel si sedette accanto all'autista Heinrich Dose. Dietro Burgdorf e Rommel, il fel maresciallo che occupava il sedile di sinistra e ciò appare strano per il rispetto della forma che hanno i tedeschi, verosimilmente guardò la casa di Erlingen sfuggire tra i pioppi mentre la macchina saliva verso il bosco. Da questo momento citerò il verbale della testimonianza resa dall'autista Dose nel corso del processo al generale Maisel celebrato nell'estate del 1949. Fu Burgdorf a indicarmi il percorso. Procedevo lentamente sulla strada di Blau-Beren e nessuno parlava. Dopo circa 300 metri il generale mi disse di fermarmi, cosa che io prontamente feci. Dal nostro sentiero ne partiva un altro che portava nel bosco. Poi ho dovuto lasciare l'auto e col generale Maisel siamo andati avanti. Il generale Maisel mi ha chiesto della mia posizione militare, ma il discorso è durato poco. Abbiamo percorso circa 30 metri. Il generale Maisel, alla mia destra, camminava un poco più avanti di me. Poi il generale Maisel si voltò ed io mi permisi di fare altrettanto. Dopo che il generale Burgdorf recebbe richiamati, è sempre Dose che parla, vidi il felmarshalo Rommel piegato in avanti. Il berretto giaceva sul fondo della lettura. Ho constatato un cattivo odore. Mentre scendevo verso Erlingen, il generale Burgdorf mi diede l'ordine di recarmi all'ospedale militare di Ulm perché il felmarshalo si era sentito male durante un colloquio di servizio. L'autista Dose non aggiunse altro. Testimone dell'omicidio di Hitler è stato soltanto un complice che morirà in circostanze sconosciute negli ultimi combattimenti di Berlino. Maisel, che ci ha ricevuto ma si è rifiutato di parlare, sarà processato e condannato a due anni di carcere. Lucia Rommel non deporrà al processo per non incontrarsi col generale. Il felmarshalo, parlando dei due emissari di Hitler con Aldinger, che lo scongiurava di liberarsene in qualche modo, aveva detto «Compiono il loro servizio, Aldinger». Dottor Kandler. Sì, prego. Perché dopo tanti anni esce dal suo riservo? Perché solo oggi si decida a parlare del caso Rommel? Lei dirà il perché... Ritengo che ormai sia giusto, onesto, doveroso e utile. Sì, mi sono accorto che non posso più tacere su certi punti ancora oscuri e perciò oggi sono disposto a darle quelle informazioni che nella mia qualità di ex comandante medico posso fornirle. Sono passati tanti anni e la mia vita è trascorsa in una specie di incubo. Ecco perché voglio parlare. Fu lei a stendere il certificato di morte? Dovetti firmare il certificato nella mia qualità di comandante medico come tanti altri certificati. Come causa della morte scrissi morte per collasso cardiaco. Ma si rendeva conto di scrivere il falso? Sì, il falso. Ma come si poteva dire che fosse il falso? In sostanza ogni decesso è provocato da collasso cardiaco quando il cuore cessa di battere quando per esempio uno oggi è vittima di un incidente automobilistico che subisce una grave perdita di sangue. Ho capito. Ho capito. Le sarebbe successo qualcosa se lesse scritto diversamente. Sì, mi avrebbero con molta probabilità messo al muro oppure mi avrebbero mandato in campo di concentramento e confesso francamente che non mi senti di rischiare queste conseguenze. È stato duro per me, è vero. Ma non potevo fare altro. E quando scrivo morte per collasso allora posso dire posso dire a tutti certo un decesso per collasso. Dovete dimostrarmi che un decesso non avviene per arresto del cuore. Non è vero? Ah, certo. Sì, sì. Era una cosa ambigua, lo so, era una specie di alibi. Io cercavo una cosa verosimile anche se non era proprio vera, se lo puoi immaginare, no? Ho dovuto pensare anche alle complicazioni che potevano sopravvenire. Dottor Candler, la signora Rommel col suo silenzio accreditò la falsa versione della morte di Rommel. Sentì mai di poter dividere con Lucia Rommel il suo disagio? Sì, lei dice bene, ecco, se si deve parlare di colpa, la colpa è dalla parte della signora Rommel, dal momento che voleva da me, come mi sembrò di capire, che io scrivessi la vera diagnosi della causa della morte del marito, ma io... Lei? Ma io avevo davanti un uomo del quale dovevo dire soltanto che era morto. Dottore, lei ha scritto morte in seguito alle ferite di guerra. No, per collasso. Glielo posso provare, dottore? No, no, ho scritto morte per collasso. Lei sul certificato scrisse colpo al cuore in seguito alle ferite di guerra. Cosa? Sì, sì, ma... Posso mostrarle il documento, dottor Canto? Posso provarle e ciò che, mi scusi, le sto contestando. Il documento? Beh, ora si esagera. Mi piacerebbe proprio vederlo. Questa è un'intervista o è un interrogatorio? Sono io a voler dire la verità. Ho scritto così, dovrei vederlo con i miei occhi, per crederci. In tutti questi anni, dal 1945 al 62, ho sempre ricordato di aver scritto morte per collasso. Questo è il documento, dottor Candler. Le spiace, dargli un'occhiata. Oberkommando, Führer, o quercie, colpo al cuore come conseguenza di una ferita subita sul fronte occidentale. Osservi la sua firma. La mia firma? Sì, proprio la mia. E allora? Io ho sempre creduto di aver scritto altrimenti, ma in questo caso è del tutto indifferente. Morte per ferite o morte per collasso. Io volevo dire che l'uomo era cadavere. Questo era un dato positivo. Le cause non le potevo conoscere, non solo io, ma anche i miei colleghi, anche se tutti ce le siamo immaginate. Quanti altri generali che non erano più nelle grazie del capo in testa sono stati fatti sparire. anche quelli si supponeva che fossero spariti tragicamente. Era tutta una grande follia. Ecco la verità, il popolo deve saperlo. È ora che sappia la verità. Tanta gente è stata eliminata in maniera orribile per per quel che riguarda Rom. Io l'ho visto personalmente, l'ho visto con i miei occhi e sulla base di quello che ho visto mi sono detto certo non è una morte naturale, questo è un avvelenamento. Del resto bastava guardarlo per non avere dubbi, non per niente. Io sono un medico, ma scriverlo non potevo, no, 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 non potevo, non mi era possibile perché, e non se lo dimentichi, io avevo moglie e bambini. E avrebbe voluto dire la mia morte, avrei provocato una tragedia, avrei distrutto tutta la mia famiglia, ma dovevo pur motivare il decesso in qualche maniera. Loro hanno detto, quelli là, che la morte era una conseguenza di quel mitragliamento aereo, non è vero? Questo, ovviamente, ho dovuto scrivere. Cosa si vuole di più da me? Cosa devo dire di più? Che ho scritto il falso sapendo di scrivere il falso? Che ho avuto paura? Che avrei dovuto ribellarmi? Qui, su questo foglio, è finita la mia vita. Io, dottor Candler, ho firmato questo documento. Come è vero che mi chiamo dottor Candler e che fra poco compirò 62 anni. I generali Udet, Dietl e il colonel Melders furono eliminati simulando altrettante disgrazie aeree. Per Rommel è necessario inscenare un funerale di stato e ordinare il lutto nazionale. Come i gangster di Chicago i nazisti hanno un vivissimo senso mortuario scriverà il brigadiere generale Jung avversario e prigioniero di Rommel in Africa. La Germania ignora che il suo eroe è ancora nelle mani di chi l'ha assassinato. Il 18 ottobre la radio annuncia laconicamente che si stanno svolgendo i riti funebri per il felmaresciallo Rommel e che fra tutte spicca una corona di alloro e quercioli inviata dal fuori Radolfo Hitler. Fra le testimonianze di Cordoglio giungono quelle dei coniugi Goebbels di von Ribbentrop di Kesserling e di Himmler che veniva sempre consultato per gli assassini i più importanti. Non giungono quelle di Keitel e Jodl gli istigatori della vendetta di Hitler. Subito dopo i funerali l'ufficio postale di Erlingen recapita a Lucia Rommel questo messaggio.